Si è detto molto su questa storia d'amore che è arrivata nel momento in cui il cantante pugliese ne aveva appena conclusa un'altra importante, Loredana Lecciso, come sappiamo, già da un bel po' di tempo è la compagna di Albano, il noto cantautore pugliese di grande successo che, nel corso del tempo, è di certo entrato nel cuore degli italiani. Una relazione che è arrivata dopo la fine di quella con Romina Power, la storica ex moglie con la quale ha fatto sognare svariati supporter proprio per un legame che aveva spaziato sia nel privato che nel professionale. Fatto sta che, in seguito, tutti sono a conoscenza del fatto che Albano e Romina, per alcune problematiche, hanno deciso di lasciarsi, scatenando un po' di malinconia anche ai numerosi fan. Insomma, bisogna dire però che successivamente Albano è riuscito a ritrovare la serenità grazie proprio a Loredana con la quale ha anche avuto due figli di nome Jasmine e Albano Junior. Sembrerebbe, però, che, nel corso del tempo, Albano e Romina comunque si vedano, magari raramente, ma che non abbiano troncato i rapporti. Anzi, è capitato ancora che abbiano fatto dei concerti insieme, certo, forse, sono decisamente sporadiche le loro vicendevoli visite, anche se, è il caso di precisarlo, la Power ha una dependence che può utilizzare quando vuole proprio nelle tenute di Cellino San Mar. Comunque sia, secondo quanto è stato riportato, l'Alecciso avrebbe persino una sua opinione personale riguardo al modo di non far sfuggire Albano Carri. Gli altri particolari, che dire, ne abbiamo già sentite di cotte e di crude su questo argomento, però, l'attuale compagna del cantautore avrebbe in maniera decisa anche la sua, in particolar modo, quindi, dal suo punto di vista, l'unico modo che non avrebbe spezzato questo rapporto sarebbe stato quello di non sposare. Beh, questo almeno è quello che ha affermato Loredana che, se vogliamo, a conti fatti, sta insieme ad Albano da molto tempo e non è mai convolato a nozze. Intanto, dal canto suo, certa spesso di tenersi in contatto con i follower attraverso il suo profilo Instagram che ad oggi conta più di 200.000, in questa piattaforma, quindi, si nota sempre la grande intesa che c'è tra lei e Albano.